Buongiorno ragazzi, sono Luca di Acheppa Sogni e appena arrivato finalmente Rottencore versione cartacea. Il gioco di ruolo brutto, cattivo e pieno di personaggi marci dentro. Creato in collaborazione con Iduzi Team, che se conoscete Iduzi è uno dei principali creatori di personaggi originali per Mugen, la piattaforma di sviluppo picchiaduro che andava molto di moda una decina di anni fa. Quindi questo è il manuale cartaceo arrivato caldo caldo da Drive2RPG. È praticamente la mia prova di stampa. Adesso posso mandarlo finalmente alle stampe perché devo dire che per fortuna è venuto molto bene. Volevo farvi vedere di cosa si trattasse. Come è fatto il manuale. Abbiamo storie, avventure, personaggi pregenerati, molte regole opzionali e questa è la versione standard in copertina morbida, quella da 15€ insomma. Ma sorpresa delle sorprese abbiamo anche questo magnifico manualetto in copertina rigida. Ecco qui. È arrivato anche lui. È disponibile anche lui subito. Veramente bello, rigido, piacevole al tocco. Non è esattamente una 5, perché come potete vedere è più grande. È un bel po' più alto. Questo è uno dei formati disponibili da Drive2RPG. Quindi ci siamo un attimino adattati, non che sia un male per voi visto che ottenete un manuale più grande. L'interno è sempre lo stesso. Carta molto piacevole, molto ben fatto. Si sente un buonissimo profumo di libro. Che dire, le spese di spedizione non sono elevate, viene stampato in print on demand direttamente dal venue unito. Quindi, finché non esce completamente dall'Unione Europea, anche le spese di spedizione sono perfettamente accettabili. Ecco qui. Questo è quanto. I nostri due manualetti di Route & Core. Se volete supportare a Chiapassogni, ci fate un grandissimo piacere acquistandoli da Drive2RPG, visto che Luca Comics si avvicina. Una buona giornata, un saluto a tutti da Luca. Grazie. Grazie.